benvenuti a questo nuovo video io sono il marventi e oggi giochiamo a battle lens scusate un secondo che mi metto le cuffie mi sentirete meglio adesso non mi sentirete più per un secondo ok ci sono scusate per il rumore che ci sarà molto 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 adesso faremo delle partite normali non con le tipo delle challenge e volevo dire che sto facendo una collaborazione con fernando gamer questo e che oggi vinceremo almeno due partner i te ok faremo almeno tre vittorie no dai scherzo questo video durerà forse meno del solito comunque facciamo che faccia soltanto una partita oggi non c'ho voglia proprio di far partire su battle lens scusate faccio una partita e boom allora ragazzi ditemi se preferite no vabbè niente comunque io avevo intenzioni di fare una challenge cioè sfida la team in challenge ok one kill cavolo sto qui e non mi potevo cura invece l'ho ucciso e vabbè pure sto qui e vabbè facciamo un altro che tavolo che tavolo dai questa non valeva dai se avete sentito è perché ho toccato il microfono per sbaglio no ti 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 ha comunque ho anche fornit sto cercando di portarvi c'è un video su fornit comunque mi chiama mar 20 y t t t t yeah ok car buonissimo ah è vero c'è ancora le cose della challenge boom ah faccio abbastanza schifo a fornit perché c'è oggi ce l'ho tipo da quattro giorni quindi e non ci so non ci ho giocato proprio tanto tanto ma d'altro sto qui che c***a madonna quanto sei morto male poverino ma poverino un cavolo questo 50 mi ha fatto emozionare no che cavolo come ha fatto ammissarlo così tanto c'è spiega allora l'ultima allora devo arrivare a me nella top 10 c'è non è difficile arrivarci però se fai schifo come me è difficilissimo perché faccio schifo ah comunque ragazzi sto cercando di portarvi una live su battlelands almeno si gioca insieme allora non ho visto le missioni raccoglie grazie a terra a terra in centro città buono mica tanto sta scherzando ah frate te spacco te spacco ti ho detto ah team si team ah team allora vaffan cuore io volevo far team perché lui mi ha chiesto comunque io volevo fare una challenge che poi non è più andata bene perché non ho trovato persone con cui fare team nel mio speciale 50 madonna sto qui perché perché era usci il dato madonna vabbè ragazzi io direi una cosa ditemi un video che ditemi un gioco da portare sul canale ok e io cercherò di portarvelo cioè dipende anche che gioco pompa pompa c'è a quelli lì però madonna oh team team amico amici siamo amici siamo amici ti ho detto che siamo amici oh frate siamo amici siamo amici dai siamo amici ti ho detto fratello fratello amici team è un grande vieni ah ci sei team allora vaffan bore mi hai fatto sprecare pure i colpi con te e anche lo sci io volevo essere tuo amico e tu che fai? mi uccidi bravo comunque per chi non lo sa io gioco a penso della season 1 arriviamo a 10 minuti e spengio p esce il dato non più ho ripreso madonna non ne ho messo ho sposto grazie non è più scegliato madonna che cosa ti ho fatto non è più che sfiga ho 0 z o 0 0 7 dai ma comunque che cavolo ti fritti di Bruxelles basta 73% di batteria 17 e mezzo che dici asser eh wifi al massimo voi non avete idea della wifi forte che c'ho io un'ora per installare fornet e per installare youtube 5 minuti no quello devo far team questa sta diventando la challenge che volevo fa io la teaming challenge amici 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 siamo amici no ti prego dimmelo eh amici dimmi che siamo amici siamo amici siamo amici eh no ha funzionato la teaming challenge vieni vieni amico vieni ok quindi questo potrò dire che è la teaming challenge ci ho provato per fare due video ben due video ho fatto che ho cancellato tutte e due tra parentesi no aspetta vienci qua fuori qui vieni fuori bravo perché se no non ci vediamo capito chi sei vuoi tu piglia va bene allora prendo io vai vieni amico dai grande sei un grande attento lì vieni qua quello è messo a scarcavolo vieni no non ci credo veramente grande meglio dello speciale 50 iscritti adesso si si cosa The Bomb e viene lui come noi cioè lo adoro 1 2 3 4 5 dai io ti sto attaccata perché so che tu ce lo scar quindi vieni scusa ho sbagliato ho messato vieni 10 dai attento lì patta sono io sono io sono io eh stiamo vicini dai non ci credo fra sta scherzando non 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 o no attento no no aspetta no come si chiamava Lev ah ok non è lui dammi la vittoria Dev Lev come si chiami tu dai Lev cioè io non me l'aspettavo che diventavo questa challenge no dai cavolo dai Lev vabbè comunque vabbè ragazzi il video si conclude qua lasciate like iscrivetevi e noi ci ribecchiamo in un prossimo video tutto colpa di deadboy ciao scusate per non c'è da si ciao